Magari se vinciamo la partita con 3.000 si cambia tutto. Mi ricordo quando abbiamo vinto l'Inter, tanto di voi ho parlato che la Juventus è tornata, che eravamo una squadra solita, dopo abbiamo perso a Lecce. E' arrivata oggi questa sconfitta. E' dura, però dobbiamo tirare fuori tutto che abbiamo dentro perché siamo la Juve. Siamo la Juve e dobbiamo tirare fuori tutto. Penso che niente è impossibile. Credo che dobbiamo pensare di solo un partito, quello che ho detto prima lì. Che quando eravamo tutti compatte, eravamo bene, stavamo vincendo la partita, che voi parlate di Scudetto e tutti, io ho sempre parlato di ogni partita. Dobbiamo pensare di ogni partita a vincere e a fare bene. E' difficile dire cosa c'è, no? Quello che è successo sui spogliatori, quello che è successo anche contro l'Inter, abbiamo parlato su di noi, abbiamo parlato di quello che dobbiamo fare meglio, però alla fine abbiamo arrivato qua e abbiamo preso un contrapiede e è stato bravo loro. Adesso non dobbiamo dimenticare questo che è successo oggi perché penso che dobbiamo portare tutto questo errore che abbiamo fatto oggi, a meno dobbiamo portare anche che abbiamo corso e abbiamo lottato fino alla fine, cosa che non è successo a Lecce.